La Regione Lazio con la voce del suo assessore alla transizione ecologica Roberta Lombardi dice no al gas a Torre Valdaliga Nord. È quello che è emerso dall'incontro svoltosi ieri in videoconferenza tra amministrazione comunale, Regione Lazio e organizzazioni sindacali per discutere del futuro della centrale di TVN. Il servizio. Anche la Regione Lazio dice no al gas a Torre Valdaliga Nord. È questo l'esito dell'incontro svoltosi ieri in videoconferenza tra amministrazione comunale, Regione Lazio e organizzazioni sindacali per discutere del futuro della centrale di TVN. Nel corso dell'incontro al quale erano presenti i consiglieri regionali Gino De Paulis, David Porrello e Marietta Tidei, Stefania Pomante della CGL, Giancarlo Turchetti della UIL, Paolo Sagarrica Visconti della CISL, Roberto Bonomi di USB, Giuseppe Casafina della FIOM CGL e tecnici dell'assessorato regionale al lavoro, è stato l'assessore regionale alla transizione ecologica Roberta Lombardi ad anticipare il no della Pisana alla trasformazione a gas dell'impianto. Dopo l'introduzione del sindaco Ernesto Tedesco, l'assessore Lombardi ha illustrato, interagendo con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, i piani della Regione Lazio per la transizione ecologica del polo energetico di Civitavecchia. Secondo l'assessore, la direzione da prendere è quella di un distretto delle energie rinnovabili e dell'economia circolare, per la quale si produrrà un progetto di fattibilità. Perciò occorre pensare alla riconversione delle aziende attraverso un piano che le trasformi in manutentrici, distributori e commercializzatori di tecnologie rinnovabili. Roberta Lombardi ha inoltre reso noto che sta tracciando, assieme al collega di Berardino, un percorso per giungere a forme di riqualificazione professionale dei lavoratori, utilizzando il Fondo Sociale Europeo, coinvolgendo anche gli istituti tecnici sull'orientamento alle nuove professioni. Altri temi affrontati, la riconversione ambientale anche del porto e la zona logistica semplificata. Come detto, in merito al futuro della centrale di Torre Valdalica Nord, l'assessore Lombardi ha detto che la Regione è contraria alla richiesta di conversione a gas. Più approfonditamente le parole dell'assessore sono state «Dimostreremo ad Enel conti alla mano che la centrale non serve». Dalle parti sindacali è stata evidenziata la necessità che la Regione quantifichi le risorse concretamente attivabili e le ricadute occupazionali previste con riguardo alla proposta avanzata, ricordando che il tema dello sviluppo dovrà comunque essere ripreso presso il Mise e i ministeri competenti con l'obiettivo di attivare strumenti di programmazione contrattata. La sezione locale del Partito Democratico esulta dopo la decisione della Regione Lazio di dire no al gas per la transizione energetica della centrale di Torre Valdalica Nord. È la vittoria della città, affermano dal PD, dei territori e di tutte le forze politiche, sindacali e associative che da subito si sono battute, costruendo una vera e propria resistenza anche contro chi sosteneva fosse ormai una decisione già presa e dunque inutile da contrastare. Bene, in tal senso la sinergia tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, la cui entrata in maggioranza in Regione rappresenta oggi ancora di più un elemento sicuramente positivo. La politica vicina ai cittadini esiste ancora, ora abbiamo il dovere e la possibilità di costruire un futuro basato su uno sviluppo in linea con la Next Generation EU. Civitavecchia torna in zona gialla. Da lunedì, grazie al calo dei contagi nel Lazio, saranno possibili alcune riaperture, in particolare per bar e ristoranti, che potranno rimanere aperti anche a cena ma solo con tavoli all'aperto. Sentiamo nel servizio i dettagli. Da lunedì il Lazio e quindi anche Civitavecchia torneranno ad essere zona gialla. A dare l'ufficialità di una notizia che era nell'aria è stato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che ha però invitato tutti a non abbassare la guardia e stare attenti. Il Lazio e Civitavecchia torneranno gialli anche per via dei confortanti dati che arrivano. Secondo l'ultimo bollettino dei contagi, l'indice RT è a 0,78. In calo il numero dei nuovi focolai e scende di 5 punti il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e i posti letto in area medica, entrambi però ancora sopra la soglia di allerta. I dati epidemiologici sono coerenti con la zona gialla, anche se permane una pressione sugli ospedali, ha spiegato l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. Da lunedì quindi sono previste riaperture e modifiche, ma con il coprifuoco che al momento resterà alle 22, anche se qualcosa in tal senso potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Per quanto riguarda bar e ristoranti, potranno rimanere aperti anche a cena, ma solo con tavoli all'aperto, mentre dal primo giugno, se la situazione rimarrà sotto controllo, riapriranno anche i locali al chiuso. Fino alla fine dell'anno scolastico, gli studenti torneranno in classe anche nelle scuole superiori e riprenderanno le attività in presenza nelle università fino al 31 luglio. Novità anche per altre attività, perché in zona gialla riapriranno cinema, teatri, sale concerto, live club, ma è necessario che ci siano posti a sedere preassegnati e una distanza di un metro l'uno dall'altro. La capienza massima consentita è del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all'aperto. Da lunedì è inoltre consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto. Dal 15 maggio invece sono consentite le attività delle piscine all'aperto e dal primo giugno quelle delle palestre. Infine gli spostamenti. Da lunedì al 15 giugno sarà possibile lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22 per 4 persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Ormai la chiameremo la giunta Cimabue, fa una ne sbaglia due. Parte in maniera goliardica la nota di Fratelli d'Italia sulla questione delle gare annullate per le asfaltature delle strade e fa un'analisi sull'amministrazione tedesco. Il sindaco sbaglia di continuo, dichiarano i meloniani, subendo i diktat della sua maggioranza, in particolare di Forza Italia. In poco più di due giorni l'amministrazione tedesco ha dovuto ingoiare l'invio di centinaia di tonnellate di immondizia di Roma, ha dovuto annullare due gare per le asfaltature delle strade che definire opache era davvero un eufemismo. È stata condannata anche al pagamento delle spese di giudizio dal Tar. Insomma una disfatta che al confronto caporetto appare la festa del patrono. Nelle prossime ore presenteremo richiesta di accesso agli atti e chiederemo alla presidente Emanuela Mari di riferire in consiglio comunale, in quanto componente dell'aggiunta esecutiva di Conf Servizi Lazio, designata dal sindaco tedesco in rappresentanza del nostro comune all'insaputa della stessa maggioranza. Non si è fatta attendere la risposta di Forza Italia al comunicato di Fratelli d'Italia, che attaccava fortemente l'amministrazione comunale ed in particolar modo quanto sta facendo Forza Italia. Dispiace dover correggere gli amici di Fratelli d'Italia, dichiarano gli azzurri, e dispiace dover ricordare loro che alcune scelte che non sembrano comprendere non sono avvenute in loro assenza, ma con l'accordo di chi li rappresentava in giunta. Non c'è stato nulla di anomalo, tutto è stato mandato a bando pubblico, come da legge ed anzi a garanzia di trasparenza. L'attuale consigliere Frascarelli di Fratelli d'Italia ha forse cambiato parere? Se sì, ci dica perché. Riguardo la giunta esecutiva di Conf Servizi Lazio e la presenza di Emanuela Mari al suo interno, capiamo che chi fa cosa è materia difficile da comprendere per alcuni. D'altronde sono gli stessi che non avevano capito a loro tempo che era quantomeno fuori luogo la richiesta avanzata da un loro consigliere a un nostro assessore per incontrare degli imprenditori con una gara aperta. E la stessa cosa si può dire di un presidente di commissione che voleva svolgere una commissione, anche in quel caso, su una gara aperta. Si intitola Numero 1 per K, il nuovo sonetto di Pasquino. L'anonimo poeta dialettale questa settimana se la prende con quelle persone che sembrano cordiali e gentili, ma in realtà nascondono qualcosa e non sono sincere. Le persone che sono troppo cordiali non mi sono mai piaciute, lo confesso. Penso sempre che vanno fatte fesso e mi convinco che sono bifacciali. Ti incontrano e ti danno baci e abbracci, sorridono ma scoprono gli denti e in quel momento pensi agli serpenti, te verrebbe da digli e li mortacci. Inizierà domani un ciclo di partite molto importante per il Civitavecchia che giocherà tre volte in una settimana. I nerazzurri saranno di scena sul campo della Vigor per Conti con calcio d'inizio alle ore 11. Entrambe le formazioni arrivano a questa terza giornata di eccellenza con un punto in classifica, frutto del pareggio all'esordio e della sconfitta nell'ultima giornata. Per il Civitavecchia poi mercoledì ci sarà l'attesa sfida al Tamagnini contro il Ladispoli e domenica prossima nuova trasferta in casa dell'Ara Nova. Per quanto riguarda la gara di domani, mister Caputo dovrà con ogni probabilità fare a meno di Serpieri che ha subito un infortunio in allenamento ma tornerà a disposizione Pastorelli. Con il presidente del Civitavecchia, Patrizio Presutti, parliamo ovviamente del Civitavecchia prima squadra ma anche delle giovanili. Comincerei proprio dalla bella notizia che è arrivata perché la scuola calcio è elite e penso per voi sia un bel motivo d'orgoglio. Assolutamente sì, anche in questo anno molto particolare abbiamo cercato di lavorare sotto traccia per ottenere questo prestigioso riconoscimento che è arrivato da pochi giorni e per il quale voglio ringraziare tutto lo staff, ma non solo della scuola calcio, in primis della scuola calcio ma di tutti coloro che lavorano giornalmente e quotidianamente all'interno di questa società perché ne siamo veramente fieri ed orgogliosi e faremo in modo di diventarlo ancora di più una società di elite. Segno che insomma voi lavorate anche e soprattutto con i giovani? Assolutamente sì, i giovani hanno il futuro di questo mondo e quindi dalle basi che devi partire. Ci contiamo molto, ci contiamo molto e cerchiamo nel massimo delle nostre possibilità di fare le cose fatte per bene. Sbagliamo, facciamo bene, però sempre in buona fede e sempre con l'obiettivo di far crescere i nostri ragazzi. Passiamo alla prima squadra, è questo campionato strano che è cominciato da poco. Ti aspettavi un inizio così difficile, un po' in salita per il Civita Vecchio? Onestamente non voglio, io l'ho sempre detta questa cosa, quindi non vorrei passare per colui che magari cerca scuse dopo una sconfitta pesante. Quindi in primis vorrei dire che non sono assolutamente contento della prestazione di domenica, non sono contento dell'atteggiamento che hanno avuto i ragazzi e sono sicuro che non è una cosa volontaria o che non diano il massimo. Anzi, io sui miei ragazzi ho sempre il massimo rispetto anche e soprattutto dal punto di vista umano perché è una squadra che gioca sempre col coltello tra i denti. Sapevamo che dopo tutti questi mesi le cose potevano anche andare così, che i risultati magari non sarebbero arrivati, non ci siamo mai preoccupati di questo perché come ho sempre detto per noi questo è un lungo precampionato, è vedere a che punto sta la società, vedere a che punto sta lo staff tecnico, vedere a che punto stanno i nostri giovani, per fare qualcosa di importante la prossima stagione. Al tempo stesso ho sempre dichiarato che se partecipiamo, partecipiamo in modo voglioso e cercando di fare il meglio di noi e questo chiaramente in queste due domeniche non è avvenuto. Adesso però c'è la possibilità di rifarvi subito perché avete Vigo, per conto e poi la discoli in rapida successione. Sì, sì, a di là di rifarci, io non cerco risultato quando i campionati sono veri, figuriamoci in questo mezzo torneo dell'amicizia, figuriamoci. L'importante è la prestazione, il risultato è secondario, quasi sempre, ma in questo momento ancora di più. Una vittoria flash è quella ottenuta da Michael Magnesi, che resta campione del mondo IBO dei Paesi Superpiuma. L'incontro con Canil-Bulana al Palasport di Zagarolo è durato solo 47 secondi. Long Wolf è partito a razzo e con una serie di colpi, tra cui un gancio destro, ha mandato a terra il sudafricano, che non è stato capace di proseguire l'incontro una volta terminato il conteggio dell'arbitro. Una grandissima soddisfazione per Magnesi, che ora punta a traguardi sempre più importanti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, Youtube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it www.trcgiornale.it